L'obiettivo principale è stato raggiunto, adesso mancano 6 partite nella quale possiamo divertirci e toglierci tante soddisfazioni. L'obiettivo del play-off è un sogno che fino alla fine possiamo conquistarci, quindi piano piano giornata dopo giornata faremo il massimo e proviamo a rientrare in questa griglia. Una rete importante sia per la squadra perché comunque ha chiuso una partita che fino a un quarto ora alla fine era ancora aperta quindi poteva creare alcune insidie. Poi comunque per me a livello personale per ritornare al gol dopo tre giornate fa piacere per un attaccante e soprattutto per il cammino di gol che ho fatto fino adesso, quindi mancava un po'. Questa salvezza a 10 partite dalla fine non ci aspettavamo, non credo nessuno, quindi è un cammino che abbiamo fatto molto importante e adesso ci prenderemo altre soddisfazioni sicuramente. La Serie B è un camminato molto lungo, quindi è normale che magari qualche partita la soffri un po' di più adesso ad aprile rispetto a novembre in cui hai fatto due mesi di campionato, tre mesi e sei ancora brillante. La Serie B è ancora lunga e noi siamo pronti nel senso che è normale che qualche calo può capitare, però noi stiamo lavorando tanto ancora dal punto di vista fisico per arrivare fino alla fine al meglio.